Secondo una ricerca dell'Imperial College di Londra, la capacità degli alberi di assorbire i gas serra sarebbe ampliamente sopravvalutata. Normalmente le piante sono in grado di trasformare l'anidride carbonica sequestrata dall'aria in tessuti organici, ma la velocità con cui assorbono e trasformano i gas è molto più lenta di quanto non impieghino a rilasciarlo di nuovo in atmosfera. Un bilancio sostanzialmente neutro che non avrebbe conseguenze apprezzabili sulla lotta alla crisi climatica.